Per quanto riguarda il comfort, come ti stai trovando con la tua famiglia ad abitare in una casa in paglia? Direi che il comfort è ottimo comparato a dove ad esempio abitavamo prima, il salto, ma anche se frequento altri ambienti, te ne accorgi, lo noti subito, non solo io ma anche gente che viene da fuori, quindi chi entra in questa casa già si accorge che uno non senti odori particolari, umidità zero, quindi non hai quegli odori di chiuso, nonostante, penso per pigrizia come tutti, non è che apri le finestre sempre, quindi anche non avendo una ventilazione forzata, se ti ricordi abbiamo messo delle WMC puntiformi, ma sono piccole, non è che facciano chissà cosa, non aprendo tanto i seramenti, comunque diciamo l'ambiente interno a livello di umidità, di comfort abitativo è ottimo, a livello acustico non ne parla neanche, è ottimissimo anche quello, quindi anche lì non senti girare una mosca di notte, hai dei sonni belli tranquilli diciamo, però ecco come in generale sia d'estate che d'inverno, d'inverno è ancora meglio direi perché l'umidità è proprio assente, noti proprio un cambio quando passi dall'esterno all'interno che entri in un ambiente bello asciutto, non confortevole ecco, quindi nonostante non abbiamo un riscaldamento diciamo esasperato, perché comunque con il riscaldamento è tutto elettrico, con le reti di resistenza immerse all'interno dell'intonaco in argilla, quindi non viene tirato come se fosse ad esempio con venti con vettori o termosifoni, viene mantenuto su una temperatura di 19 gradi, ecco 19, 19 e mezzo, e direi che comunque insomma non percepisci il freddo, ma penso che sia anche dovuto al fatto che è secco come ambiente, anzi direi forse a volte fin troppo perché ti accorgi diciamo sulla pavimentazione che è in parquet, magari c'è un po' un ritiro su dei mobili in legno che potendo avere tutto in massello, vedi diciamo il legno si muove ma proprio perché tira, però come ambiente è ottimo, quindi direi meglio di così non c'è.